Ok, allora, io domani ti chiamerò, ti convincerò a non farlo, ti commetteremo? No, 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 scommettiamo, Gloria, Gloria, scommettiamo, Gloria, no, Gloria, scommettiamo, io faccio un po' di minuto, io faccio un po' di minuto, io faccio un po' di minuto, questo è meglio, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando gli interessi, Gloria, gli interessi di dirigerci, no, no, poi ci sentiamo, Gatti, grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti.